Buongiorno da Daniela Minerva e benvenuti a Ritorno al Futuro, il Festival di Salute 2021. Perché Ritorno al Futuro? Perché noi pensiamo che qualunque cosa succeda nelle prossime settimane, il ritorno alla normalità non sarà un ritorno al passato, sarà un ritorno a una nuova normalità, perché questi 18 mesi di pandemia hanno cambiato in maniera importante non solo le nostre vite, le nostre abitudini, ma anche la nostra percezione di quello che succede là fuori e anche la medicina. Quindi ecco, Ritorno al Futuro per questo. È il Fir Rouge che conduce il nostro festival ed è quello di cui vogliamo parlare con Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Grazie professor Burioni per essere con noi. Grazie a voi. Il vaccinale sta andando bene, i risultati ci sono, pochi pazienti, sempre meno pazienti in terapia intensiva e anche ospedalizzati. Si ammalano purtroppo in massima parte, più del 90%, le persone non vaccinate e i vaccinati sono persone fragili. Però ci sono persone che si ammalano e ci dobbiamo aspettare che ci saranno anche nei prossimi mesi persone che continueranno ad ammalarsi. Ecco, allora una cosa che le vorrei chiedere è, dobbiamo aspettarci di nuovo? Siamo ancora al tempo del marzo-aprile 2020 con quelle scene di disperazione, con voi che non avevate strumenti. Sostanzialmente c'erano delle non-cure per trattare il Covid, oppure in questo periodo la scienza ha scoperto qualcosa? Abbiamo messo le mani su delle possibili terapie per il Covid una volta che i pazienti si ammalano? Ma prima di tutto, grazie ai vaccini che sono stati sviluppati in un tempo inimmaginabile e che hanno dimostrato una grandissima efficacia e un'altrettanto grande sicurezza di persone che si ammalano, ci sono molto poche. La campagna vaccinale sta andando bene relativamente, perché abbiamo vaccinato veramente decine di milioni di persone, però è come dire, quanti sono quelli che possiamo accettare che guidino a sinistra in autostrada? Pochi. E noi dobbiamo vaccinare più gente possibile. Come fare questo è compito della politica, deciderla, ma compito di noi medici è dire che l'ideale è vaccinare tutti. Tutti non si raggiungerà, però ricordiamoci che contro la poliomielite, per esempio, sono vaccinati più del 95% dei bambini che nascono nel nostro paese. Prima di tutto, quando i pazienti arrivano in ospedale, trovano medici più disponibili, trovano i reparti non più affollati, trovano professionisti che hanno fatto una grande esperienza su come, diciamo, maneggiare questi malati che talvolta sono molto gravi. E poi ci sono anche delle cure, fortunatamente, farmaci che erano già disponibili, sono stati dimostrati essere efficaci nella terapia delle forme almeno le più gravi. E sono i farmaci che, sono farmaci per lo più che vanno a inibire il sistema immunitario, perché una particolarità di questa malattia è che il sistema immune è nostro amico nella parte iniziale della malattia, ci difende e se ci siamo vaccinati non ci fa ammalare, ma nella parte finale della malattia è invece uno degli elementi che causa i problemi. E per questo i farmaci che ci sono dimostrati efficaci sono stati i farmaci che inibiscono il sistema immune, che si usano appunto però quando un paziente è grave. Sono sia farmaci antichi come i cortisonici, che sono conosciuti da tanti tanti anni e si sono dimostrati molto efficaci, e molto efficaci si sono anche dimostrati farmaci innovativi, fatti da anticorpi monoclonali che bloccano specifici componenti che attivano l'infiammazione, come il tocidizumab, che aiutano nel diminuire la mortalità di questi pazienti. Questo, unito alla conoscenza, per esempio, del fatto che questo virus può causare disturbi, anche della coagulazione, non è un virus che colpisce solo i polmoni come l'influenza. Ecco, anche in questo caso noi abbiamo farmaci che possono andare a modificare la coagulazione del paziente dandogli migliori possibilità di guarire. Quindi, senz'altro, chi si ammala oggi è destinato ad avere dei trattamenti molto più efficaci di quanto non accadeva un anno e mezzo fa. Ma, ricordiamoci, oggi esiste la possibilità di non ammalarsi. Questo si può ottenere vaccinandosi con un vaccino sicuro ed efficace. Quindi è questo quello che dobbiamo consigliare a tutti i nostri pazienti. La cura migliore è non arrivare in ospedale. Sì, lei dice che la migliore terapia è non arrivare in ospedale, certamente. Allora, parliamo di terapie domiciliari. Perché? Ne parliamo anche perché è un terreno su cui si sta veramente muovendo tanta fuffa, chiamiamola così. Ci sono delle cure, sedicenti cure, che però nessuno ha mai dimostrato essere efficaci, che vengono proposte. Le persone vanno in confusione. Si alimentano anche dei falsi miti su quello che è possibile fare o non è possibile fare per i pazienti che si ammalano di Covid e che però, fortunatamente, non devono andare in ospedale ma possono farlo a casa. Cosa ci può fare chiarezza su questo punto? C'è da dire che molte persone, giustamente, dicono abbiamo una malattia così grave. Ma com'è possibile che non ci sia una terapia? Ebbè, purtroppo noi non abbiamo terapie efficaci, se non nei confronti dei sintomi, per la maggior parte delle infezioni virali. Noi non abbiamo cure efficaci contro il morbillo, non abbiamo cure efficaci contro l'epatite A, non abbiamo cure efficaci contro la poliomielite, non abbiamo cure efficaci contro la rosolia o contro la parotite. Purtroppo mettere a punto farmaci antivirali è molto complesso. E gli antivirali che si usano in questo momento nel Covid sono utili soltanto di nuovo quando un paziente è grave. Quindi, a casa, nelle fasi iniziali della malattia, quando eravamo letteralmente disperati, perché non sapevamo cosa fare, sono stati usati alcuni farmaci, come per esempio l'idrossiclorochina, che davano risultati molto promettenti in laboratorio, però purtroppo queste promesse non sono state mantenute. Non c'è in questo momento nessun farmaco che abbia solidi dati che provino l'efficacia nell'impedire la progressione della malattia o nel favorire una guarigione più rapida, con una eccezione, gli anticorpi monocronali. Gli anticorpi monocronali sono degli anticorpi fatti in laboratorio, sono fatti sinteticamente, e questi si è visto che somministrati precocemente possono essere utili nell'impedire l'aggravarsi del paziente, però purtroppo non sono facili da maneggiare, perché devono essere somministrati per via endovenosa, in ospedale, per cui quello che sarebbe un avanzamento notevole sarebbe quello di averli somministraboli per via intramuscolare o sottocutanea in modo che il medico stesso di famiglia che vede il malato fa la diagnosi magari con un tampore rapido e immediatamente somministra questi preparati nel più breve tempo possibile. Anticorpi monoclonali, se ne è parlato moltissimo, non è mai chiaro fino in fondo quali siano ancora in sperimentazione, quali siano già utili e quando sono utili. Ci può spiegare per favore come li state usando, se li state usando gli anticorpi monoclonali? Sono utilizzati principalmente quando viene diagnosticata la malattia in una persona che ha probabilità di aggravarsi. Se quindi noi vediamo la malattia in un paziente anziano oppure che ha dei fattori di rischio, come possono essere l'obesità, gli abete e altri problemi di salute, ecco, quello è il paziente al quale possono essere somministrati gli anticorpi monoclonali per diminuire le probabilità che questa persona si ammali. Ovviamente noi speriamo che siano presto disponibili formulazioni più potenti in modo da poter evitare l'arrivo in ospedale, il che renderebbe tutto molto più facile e renderebbe possibile anche un uso profilattico. Che cosa significa? Il medico vede un paziente che ha il Covid, magari un giovane di 25 anni che non è particolarmente a rischio, però questo giovane di 25 anni vive col nonno che ha 85 anni e magari ha qualche problema e non si è vaccinato. In quel caso si può immaginare di poter usare gli anticorpi monoclonali anche come profilassi nel nonno che se si infettasse sarebbe particolarmente a rischio. Però ecco, gli anticorpi in generale che sono in uso da tanti anni nelle malattie infettive hanno una caratteristica. Per funzionare devono essere somministrati precocemente. Somministrati tardivamente purtroppo non funzionano né nel Covid né in tante altre malattie dove invece precocemente sono molto efficaci. Fortunatamente la ricerca è molto attiva nella ricerca di farmaci contro questo virus, non solo per la gravità di questa pandemia, ma perché oramai abbiamo capito che i coronavirus sono pericolosi e quindi speriamo di no, ma potrebbe in futuro anche saltarne fuori uno nuovo. Il problema è che i tempi della ricerca non sono velocissimi. per avere dei farmaci contro HIV o per avere dei farmaci contro l'epatite C ci sono voluti tantissimi anni, ci sono voluti decenni e quindi ancora è passato veramente molto poco tempo. Però ci sono molte molecole promettenti oltre gli anticorpi onoroclonali per cui c'è la speranza che la maggior parte delle persone si vaccini. Però nessun vaccino esistente sulla Terra è efficace al 100%. Quindi dobbiamo vaccinarci tutti perché se ci vacciniamo tutti il virus circola di meno, quindi anche quelli sfortunati nei quali il vaccino non ha funzionato saranno protetti. E poi è meglio comunque avere dei farmaci perché anche se ci vacciniamo tutti qualcuno continuerà ad ammalarsi e sarebbe molto molto positivo poterli curare senza farli arrivare neanche in ospedale come avviene per altre malattie. Ricordiamo per ultimo che mai come in questo caso siamo tutti nella stessa barca. Il virus ha una circolazione mondiale e noi dobbiamo preoccuparci, come Paese avanzato, di rendere il primo possibile disponibili i vaccini anche ai Paesi meno fortunati perché altrimenti il virus continuerà a replicarsi in questi Paesi. Una nuova variante potrebbe saltare fuori, speriamo di no, ma potrebbe accadere. E quindi è nel nostro interesse che il maggior numero di persone nel mondo sia vaccinato contro questo virus. Quindi in una situazione come questa il modo migliore per essere egoisti è essere generosi. Quanto lei ci sta dicendo chiama in causa le persone che si ritrovano con qualche sintomo che la febbre, la ben nota incapacità di sentire i sapori, la tosse, insomma quelli che sono i noti sintomi del Covid di cui abbiamo parlato tanto e tanto a lungo. Quando una persona deve entrare in allarme e andare in ospedale e questo chiama in causa il ruolo dei medici di medicina generale che sono chiamati quindi a mandarvi le persone, a mandare le persone a dire al loro assistito che non è più tempo di aspettare. Ci può dire qual è la tempistica? Che cosa si deve fare? Può dare qualche consiglio alle persone che si trovano con i sintomi da Covid? Il medico di medicina generale è un medico fondamentale in tutte le patologie perché anche un tumore se non viene affrontato in tempo ha una prognosi molto meno positiva. Quindi la medicina generale è quella che è proprio a contatto col paziente è fondamentale in tutte le patologie e il Covid non fa eccezione. Un paziente che ha i sintomi di Covid e magari sa anche di essere positivo perché adesso non è difficile determinare la positività con un tampone ecco, quel paziente deve essere seguito con molta attenzione perché potrebbe esserci anche in una persona non a rischio un peggioramento improvviso e un intervento tardivo con le misure di supporto che noi abbiamo la prima di tutte, l'ossigeno potrebbe diminuire le possibilità di guarigione del malato per cui la medicina quella sul territorio diciamo che abbiamo sempre saputo che è molto importante e questa pandemia ci ha ricordato quanto è importante e quanto è cruciale perché la gente non si ammali e perché la gente se si ammala possa guarire nel più breve tempo possibile e con la maggiore frequenza possibile. Anche perché lei ci dice Covid e questa variante del Covid è una malattia molto veloce. Purtroppo il virus che abbiamo non è più il virus dell'anno scorso questo virus ha raggiunto una contagiosità altissima non è lontana da quella della varicella per fare un esempio per cui tutte le procedure che ci hanno protetto diciamo nel 2020 potrebbero non essere efficaci nel 2021 ringraziamo il cielo di avere un vaccino così efficace perché con un virus così infettivo così contagioso sarebbe stata veramente una catastrofe e invece per fortuna c'è il vaccino e questo ci permette di combatterlo in maniera estremamente diciamo potente e con buone possibilità di successo. Professore, i vaccini? che sono la vera risposta alla pandemia ma anche le terapie ma anche cambiamenti comportamentali che noi stiamo imparando alcuni più alcuni meno li stiamo mettendo anche in pratica la mascherina il distanziamento eccetera possiamo pensare che il Covid diventi così una malattia endemica qualcosa con cui abbiamo a che fare in maniera serena continuamente e poi le vorrei chiedere questo lei è un C-vax della primora ha fatto campagna per i vaccini molto prima dell'arrivo di Covid per i vaccini dei bambini per il vaccino dell'HPV per le ragazze e per i ragazzi insomma lei si è speso moltissimo su questo in questo paese per molti versi un po' antiscientifico distratto ecco allora lei si aspettava un successo di questo tipo della campagna vaccinale contro Covid perché in fondo la popolazione sta rispondendo in maniera importante anche se ci sono ancora più di 3 milioni di over 50 che non si stanno vaccinando però la popolazione sta e soprattutto stanno rispondendo i giovani che corrono in massa a farsi vaccinare lei se lo aspettava? Ma io sicuramente una cosa non mi aspettavo un vaccino in 10 mesi questo non me lo sarei mai aspettato per cui ho sbagliato le previsioni ma sono molto felice di averle sbagliate e poi sono rimasto come lei giustamente ha detto sorpreso in positivo dai giovani i giovani sono un gruppo che tutto sommato è molto poco a rischio per le conseguenze quindi il fatto di correre e vaccinarsi addirittura mi è capitato di sentire tanti ragazzi che si vaccinano contro il volere dei genitori che sono contrari per motivi diciamo incomprensibili dei vaccini ecco forse noi che ci lamentiamo sempre di una gioventù che non ha punti di riferimento che non ha più diciamo visioni complesse della società ecco possiamo dire in questo caso di aver avuto una bella lezione da parte dei nostri concittadini più giovani e speriamo che sia d'esempio anche per quelli della mia età io sono uno di quelli che viene chiamato un boomer sopra i 50 anni ecco noi dobbiamo proprio vaccinarsi che ci siano ancora milioni di persone sopra i 50 anni in Italia che non sono vaccinate è veramente qualcosa di incomprensibile perché queste persone stanno in questo momento rischiando la vita perché il virus è diventato molto contagioso e il virus per una persona che non ha 20 anni è estremamente pericoloso quindi io concludo con un appello a tutti i miei coetanei o giù di lì vaccinatevi con tranquillità perché il vaccino è sicuro il vaccino è molto efficace e non facendolo potreste pentirvi e poi sarebbe tardi quindi mi raccomando con serenità se avete qualche paura parlatene col vostro medico non abbiate paura di avere paura perché una persona è autorizzata ad avere tutte le perplessità poi però alla fine bisogna agire razionalmente fare sparire diciamo questi dubbi e proteggerci nel modo più sicuro e più efficace che abbiamo e oggi e farlo col vaccino già non abbiate paura di avere paura ma soprattutto ricordatevi che vaccinandosi si acquisisce il Green Pass e col Green Pass al collo potete andare veramente dappertutto e godervi la vita grazie grazie a Professor Burioni grazie a chi ci ascolta e continuate a seguire il Festival di Salute Ritorno al Futuro grazie a chi ci ascolta Grazie.